Presi la cassetta di vostro padre e la gettai nell'oceano. Con quel gesto speravo di lasciare alle spalle le mie pene. Ha detto pene. È stato fico. Sì, pene, pene, ha detto pene. Proprio così. Pene. Il mio camion. Non perderò tempo con te, Damirino. Babs, mi hai salvato. E guardate il barista, è svenuto. Tiriamogli giù i pantaloni, vediamo come ce l'ha. Dottore, ci dica la verità. Che cos'ha il nostro amico? Vede, signor Griffin, non c'è un modo semplice per dirlo. Quindi andrò dritto al punto. È nero. Non questo amico, lui! Oh, lui? Signor Quagmire ha subito un brutto attacco da parte di uno squalo. Per fortuna guarirà. Però dovrà imparare a vivere senza il suo pene. Oh, forse no. Oh, che c'è qui? Non sarà il suo pene? Oh, è uno scherzetto che faccio sempre con i miei pazienti senza pene per tirarli un po' su. Liev Schreiber si fa un sacco di risa. Lois, sai che ti amo come un fratello, ma non lo farò. Vorrei solo avere una discussione imbarazzante da falò con un consulente. Gesù ama tutti quanti. Ah, in realtà ciò che Gesù ha è la potenza della civiltà occidentale. Gesù ha armi, germi e acciaio. Scusate, il legno è molto umido. Ah, in realtà il legno è molto secco. Il legno umido è simile. Il legno secco crepita nel silenzio imbarazzante. Mi piacciono gli inserti dove posso essere intelligente. Chris, eccoti qua. Patty, che succede? Non è l'ora di puttaneggiamento. È per tua sorella Meg. Lei è... morta. Allora devo andare. Aspetta, ma dove vuoi andare? Vado in un club dove sono troppo giovane per entrare ad ascoltare una band della casa discografica dell'emittente che produce lo show. Ehi, chi ha lasciato il suo gender fluido nella doccia? Cosa? Cosa diavolo è? Ehi, zitti. Tu, str***o, non guardarmi. Sono dominante. Brian, cosa ci fai qui? Cosa ci faccio qui? Che cos'è questo? Sappi che questo posto è mio. È una caffetteria per gatti. Ora va via, fai arrabbiare i gatti. Ecco perché sibilano. In realtà, se spaventati sibilano. I gatti arrabbiati gemono. Peter, odio doverlo fare, ma tu sei stato un buon amico di Hammer e il lavoro al birrificio deve andare avanti. Ecco perché a partire da oggi sei nominato capo dei social media. Ehi, tutto quello che vuoi, sono della squadra. Ero anche uno dei mitici 300. 299 funziona uguale e dovrei andarla a fare dietro il montarozzo. Che succede, tesoro? Beh, è una lunga storia, ma oggi speravo di tornare a casa con una ragazza e un lavoro. Io potrei essere la tua ragazza. Vuoi che ti faccia un lavoretto? Sul serio? La giornata comincia a girare. Seguimi nel bagno degli uomini. Questo è... Questo è un appuntamento? È così che funziona? Spiritoso, mi piaci. Aiuto! Sto cercando di mangiarmi! Torna subito qui! Dammi 100 dollari! Anton! Quello sta scappando! Devi pagare mia moglie, bastardo! Corri, corri, Brian! Sei un cane! Papone! Che cosa ci fai tu qui? Sono qui per riportarti a casa! Beh, io non ci voglio tornare, voglio rimanere a fumare erba! Che cosa? Mio figlio non fumerà mai e poi mai l'erba! Perché no, papà? È per caso peggio dei tuoi tre martini a pranzo? Che cosa? Mio figlio non berrà mai e poi mai tre martini a pranzo! Perché no, papà? È per caso peggio dei tuoi cinque scotch a colazione! Che cosa? Mio figlio non berrà mai e poi mai cinque scotch a colazione! Perché no, papà? È per caso peggio del tuo whisky di mais distillato illegalmente con 3x sulla bottiglia! Cosa? Mio figlio non berrà mai nulla se non vino di riso! Esatto! Le radici di famiglia risiedono addirittura in Asia! Brian, ottime notizie! Andiamo a fare un giro in macchina? No, il nostro portfolio è su del 30%! E dal momento che ora abbiamo successo, faremo una di quelle melense pubblicità sugli investimenti! Grazie ai miei investimenti, ho visto crescere i miei soldi e la mia bambina! Papà? Grazie per aver reso possibile questo grande giorno! Non ringraziaremi, ringrazia Fidelity! Bene, sono pronta a sposarti! Scusa, com'è? No, sono tuo padre! Sì, lo so, ma è questo che faremo! Fidelity, ci siamo quando la tua piccola sposa il suo padre cane! Scusate, signori, siete in arresto! Cosa? Perché? Voi tre avete violato lo Stolen Valor Act, secondo cui è reato fingersi un veterano! Oh, adesso è pure un reato violare la legge! Signor Quigmeyer, lei è libero, ma voi tre dovete venire con me! E io che pensavo fosse dura essere gay e cappelliere! Perché? Siamo gay? Abbiamo le borse in bocca! Scusi, signori, so dirmi qual è la prossima fermata? Rauli, ghelli, baulilli! Oh, detesto quando fanno viaggiare gli infermi in treno! Prossima fermata! Rauli, ghelli, baulilli! Si scende! Signore, lei deve delle scuse a me e a tutta la brava gente di... Rauli, ghelli, baulilli! Carino da parte dei locali segnalare quando passa il treno! Ti andrei bevo un po' di tè? Oh, io adorerei un po' di tè! Come, è già bollente! Sì, è un bollitore elettrico! Noi non ce l'abbiamo a casa nostra! Mia madre fa bollire l'acqua in un pentolino da popcorn! Quell'inutile vecchia sgualdrina! Lascia che mi faccia perdonare! Vuoi uccidere qualcosa che amo? E se uccidessi te? Ok, ok, sì, d'accordo! Hai ragione! Io volevo dire tipo la mia pallina da tennis preferita! Tu stai paragonando Rupert a una pallina da tennis? Ma che cos'hai che non va? Non siete mai andati d'accordo? Lui sapeva che c'era qualcosa che non andava in te! E ora l'ho capito! Sei un psicopatico! Stewee, giuro, non volevo. No, tu non capisci, io... Sazzetto. Adesso smettila, è finita. Guarda cosa faccio, guarda qui. Twitter, non seguire. Instagram, non seguire. Snapchat, non seguire. E questo è tutto. È fatta. Noi due non siamo più amici ormai. Ma Stewee... Addio! Di che ne butombo ti andrebbe di farlo? Brian, ormai sei bloccato. Oh sì, li ho visti. Lo clicchi quando vuoi che faccia un trick. E poi mi dai un biscotto così associo le due cose. No, lo uso per sottolineare le mie battute. Ora Brian, devi rotolare e metterti a quattro zampe. Se lo fa Nathan Lane, lo puoi fare anche tu. Ok. Ma dovremmo concentrarci sulla preparazione. Beh, guarda chi vuole prepararsi. Sei un perfetto Beagle Scout. Non dovrei essere io a fare clic se mi piace la battuta. Non puoi cliccare per tutto quello che dici. Se è divertente, sì. E finora li ho atterrati tutti, a differenza degli aerei dell'11 settembre. Visto? Nessun clic. Era di pessimo gusto. Non fa ridere. Dovevo essere su uno di quegli aerei. Sì, anch'io. Non mi stai affatto spaventando, sai Patris Faisi. Puoi farmi vedere quello che vuoi. Ma nulla impedirà alla mia famiglia di tornare qui domani e festeggiare tutti insieme. Ma che succede? Sono il fantasma del Natale che verrà. Sto plasmando il tuo futuro. E vedrai che... Ops, è ciò che succede quando parlo mentre lo faccio. E' così che hanno creato Jonah Hill. E' sempre così dopo una sbronza? Sì, è il patto che stringi con gli dei del divertimento. Ogni 72 ore perdi un giorno. Papo, sei rosso come un peperone. Non posso muovermi. Fat troppo male. Non ci credo che hai comprato un food truck. E cosa vorresti vendere? Per prima cosa, ti conviene crederci. Seconda, soprattutto hamburger con dentro una bomba alla crema. E bevande con hot dog per cannucce. Mmm, un altro frullato per favore. Mi fa piacere che fai il bis, ma averlo in ginocchio mi sembra... Mi sembra un po' esagerato. Grazie del passaggio, Ojo. Qui dentro possiamo parlare delle nostre intuizioni e di quelle cose che non quadrano. D'accordo. Io ho la sensazione che Madia non sia una donna. Sì, c'è qualcosa che non quadra in lei. A tutte le unità, a spaccio di droga tra la Quinta e la Maple, ci sono stati degli spari. Il sospettato potrebbe essere armato. Se ci sono stati spari, è armato, no? Ho parlato troppo, scusate. Tra la Quinta e la Maple, è qui vicino, andiamoci. Non posso, devo andare in centrale ad aggiornare la bacheca degli annunci. Le lezioni di chitarra non interessano a nessuno. Ma hai sentito? Stanno spacciando droga. Peter, tu non capisci molte cose del lavoro della polizia. Che c'è da capire? Io guardo la TV. Su, dai, mettiamo la sirena anni 70 sull'auto e via. Hai attaccato una caccola sul tettuccio? Accelera, forza! Grazie a tutti.